ciao a tutti oggi vediamo come preparare il ketchup fatto in casa ecco gli ingredienti versate tutti gli ingredienti in un pentolino fate cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso frullate fino a ottenere un composto liscio e fate raffreddare la salsa ketchup è pronta un saluto da Paolo D'Alicandro grazie a tutti